Gentili telespettatori, buona giornata. In arrivo la sesta ondata di caldo. Quando scatta, vediamolo in questo video. Dopo un fine settimana con condizioni meteo instabili e aria più fresca, il mese di agosto si aprirà con un graduale rinforzo dell'anticiclone africano. Da lunedì, primo agosto, i suoi effetti inizieranno a farsi sentire con una prima leggera crescita delle temperature, più sensibile da metà settimana, quando si aprirà definitivamente una nuova ondata di calore. La numero 6 in questa caldissima stagione del 2022. Lunedì, primo agosto, le condizioni meteo saranno per lo più stabili e soleggiate. Faranno eccezione un po' di nuvole in Calabria e Sicilia, con isolati temporali pomeridiani sulle zone montuose e quelle e qualche temporale pomeridiano sui settori centrali e orientali dell'arco alpino. Dopo la tregua del fine settimana, le temperature massime ricominceranno a salire leggermente quasi dappertutto. La giornata di martedì 2 agosto sarà calda e nel complesso soleggiata in tutta Italia. Da segnalare solo qualche modesto e innocuo annuvulamento al centro-nord al mattino. Nel pomeriggio osserveremo una nuvolosità sparsa e irregolare sulle aree alpine e nelle zone interne del centro-sud, con la possibilità di isolati e brevi temporali di calore su alpi orientali, alpi marittime e appennino centro-settentrionale. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve crescita e ovunque superiori alla norma. Le massime supereranno ovunque i 30 gradi e saranno per lo più comprese tra i 31 e i 35 gradi, con picchi fino a 38 gradi in Sardegna e 36-37 in Toscana, Umbria, Lazio e nella fascia centrale della pianura padana. I venti saranno in generale deboli, con solo qualche moderato rinforzo di maestrale tra l'Adriatico Meridionale, la Puglia, il Canale d'Otranto, lo Ionio e il Canale di Sicilia. Il mare risulterà mosso nel Basso Adriatico, nel Canale d'Otranto e nello Ionio. Localmente sarà un po' mosso anche il Canale di Sicilia, poco mossi o localmente calmi i restanti bacini. L'anticiclone nord-africano si consoliderà con ancora più decisione sull'Italia da metà settimana, determinando un ulteriore aumento delle temperature e l'avvio di una nuova ondata di caldo, la numero 6 di questa stagione. Ancora una volta la massa d'aria calda avvolgerà tutta l'Italia e torneremo ad avvicinarci ai 40 gradi. A rischio soprattutto la fascia centrale della Val Padana, dove la colonnina di Mercurio si spingerà probabilmente fino intorno ai 38 gradi e le zone interne del centro-sud e delle isole maggiori, dove potremmo tornare a registrare picchi di 40 gradi. Dal punto di vista meteo andiamo incontro a giornate per lo più stabili e soleggiate. Farà eccezione una fase più instabile al nord tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto, con temporali che comunque dovrebbero limitarsi a coinvolgere le zone montuose e in particolare le Alpi. Per il nord poi si profila una possibile attenuazione della calura, più intensa già nel prossimo fine settimana, con temporali che probabilmente arriveranno a coinvolgere anche le zone di pianura e l'afflusso di aria un po' più fresca. Per il centro-sud invece anche il primo fine settimana di agosto sarà segnalato da caldo intenso. E così anche Mario Giuliaci, colonnello, dice poche speranze ad agosto ci sarà questa sesta ondata di caldo. Dice proprio così Mario Giuliaci la tendenza meteo lascia poche speranze, illustrando proprio le previsioni per il mese di agosto, annunciando che la settimana, la prima settimana di agosto sarà interessata da una nuova fiammata di caldo africano. I giorni di tregua insomma sono già finiti e così l'anticiclone nord-africano tornerà, ritornerà, ritornerà, espandendosi verso l'Europa e concentrandosi soprattutto sul nostro paese. Quindi il picco della prossima ondata di caldo è previsto nella parte centrale della prossima settimana. A partire da mercoledì giovedì farà molto caldo in tutta Italia, dice con punte fino a 40 gradi e oltre. Le città che rischiano di sfiorare i 40 gradi sono Firenze, Roma, Lecce, Catania e Cagliari. Le proiezioni poi non sono rassicuranti perché è probabile che dall'otto agosto in poi l'alta pressione diminuisca in parte solo al nord, dove le infiltrazioni dell'aria relativamente più fresca e instabile dovrebbero favorire la formazione di un po' di temporali e consentire l'attenuazione del gran caldo, dice il colonnello. Il problema sarà soprattutto al centro-sud dove non ci dovrebbe essere nessun cambiamento. Il caldo africano al centro-sud dovrebbe andare avanti almeno fino al 10-11 di agosto. Bene, io vi ringrazio, il canale oggi e domani dovrebbe raggiungere i 212.000 iscritti, quindi 1.000 iscritti in più. Faccio il benvenuto, do il benvenuto a queste 1.000 nuove persone che hanno deciso di avere l'iscrizione al canale che poi sapete che l'iscrizione non comporta assolutamente nulla, è solo un tasto che si schiaccia. Iscriviti, poi dici sei iscritto. Qual è l'unica differenza tra un iscritto e non iscritto? Che quando aprite il vostro YouTube sui canali dove siete iscritti e trovate un pallino blu vicino significa che sono stati caricati dei nuovi video e poi non dovete andare a cercare Teleitalia sul banner ma lo trovate già nella vostra pagina. Tutto lì, non c'è nessuna differenza se non un aiuto al canale a essere più visibile, perché i canali vengono considerati più sul numero di iscritti che sulle visualizzazioni. Dovrebbe essere al contrario, un canale dovrebbe essere valutato sul numero di visualizzazioni e quello è l'importante, non sul numero di iscritti, perché tu puoi avere dieci iscritti e un miliardo di visualizzazioni, oppure avere un miliardo di iscritti e dieci visualizzazioni. Vabbè, comunque per adesso funziona così. Grazie a tutti, ricordatevi che c'è anche Teleitalia seconda rete. Arrivederci e grazie, buon proseguimento di pomeriggio sera.